Cara mamma e papà, è evidente che ogni bambino fin dai primi mesi di vita tende ad imitare il genitore, nelle movenze, nei modi di fare e nelle parole, questo lo sappiamo bene, come pur ad esempio per quanto riguarda la predilezione di alcuni cibi per cui i bambini preferiscono mangiare quello che scelgono i genitori. Questa tendenza all'imitazione rispecchia in realtà un fenomeno molto più profondo che ha a che fare con una risonanza a livello cerebrale e il primo livello di questa risonanza è chiamata risonanza emozionale o risonanza empatica. Il secondo livello è quello della risonanza neuropsichica e questo cosa significa? Significa che quando i genitori del bambino stanno in contatto dopo un po' di tempo i loro cervelli comunicano telepaticamente e questo si evidenzia con i tracciati elettroencefalografici sempre più simili uno all'altro. Si parla quindi di elevata coerenza elettroencefalografica quando si verifica questo fenomeno ovvero quando l'attività neuronale del neonato imita quella dei genitori si può anche chiamare imprinting elettromagnetico e la situazione può evolversi sia in senso migliorativo che in senso peggiorativo ovvero la coerenza può aumentare sempre di più oppure può diminuire. Questi fenomeni risonanza elettromagnetica sono quindi dimostrati scientificamente attraverso appunto i tracciati elettroencefalografici. Ora perché è importante che tu sappia queste cose? Ti faccio un esempio. Cosa accade quando la mamma è in ansia o sotto stress? Il neonato copia l'attività elettroencefalografica della madre pertanto anche lui aumenta i suoi livelli di ansia e di stress. Immagino che anche tu condividerai con me il desiderio di evitare ansia stress e quello stato di continua apprezzione ed insicurezza che molti bambini manifestano sin dalla prima infanzia. Questo è il motivo fondamentale per cui nel mio percorso genitore allenatore do ampio spazio a queste tematiche e lo facciamo a livello pratico invitando genitori e coppie in dolce attesa ad allenare una migliore gestione emozionale per l'ammonia della coppia e della famiglia. Se vuoi saperne di più proprio sul percorso genitore allenatore vieni sul mio sito dot luciapremdacostucci.com e fissa il tuo primo appuntamento online o direttamente in studio medico. Ciao!